Ciao a tutti e benvenuti nel video dedicato all'installazione dei tutori. Questo è un lavoro indispensabile se si coltivano varietà che crescono di continuo ed è un'operazione che va eseguita prima o subito dopo la messa a dimora delle piantine. Tale operazione ha lo scopo di sostenere il peso della pianta e quello dei frutti e impedire che durante i temporali estivi le piante si spezzino. I tutori più validi e utilizzati sono le canne di bambù che potete vedere in queste immagini e che sono robuste e facilmente maneggiabili visto il peso leggero. In alternativa alle canne di bambù in commercio sono reperibili tutori di diversi materiali sia di metallo che di materiale plastico. Ecco nel mio orto quest'anno ho utilizzato canne in bambù e tutori in materiale plastico. I tutori vanno infilati nel terreno per almeno 25-30 centimetri mentre la parte fuoriterra non deve risultare inferiore ai 160-170 centimetri. Durante lo sviluppo della pianta si deve intervenire con le legature ai tutori in quanto il pomodoro non essendo a sviluppo rampicante non è in grado di sorreggersi da solo. Nel caso del mio orto ho installato dei tutori non solo nel caso del pomodoro ma anche per quanto riguarda le melanzane e i peperoni utilizzando tutori di diverse altezze e grandezze. Per le legature ai tutori si possono utilizzare la raffia, lo spago ma anche pratici laccetti di materiale plastico biodegradabile con l'anima interna di ferro che permette un fissaggio rapido e sicuro. Questa semplice operazione va eseguita nel migliore dei modi in quanto un buon fissaggio ai tutori garantisce stabilità alla pianta che in tal modo non cadrà sotto il peso dei frutti. Ecco mi raccomando le legature non vanno mai strette troppo per evitare che il fusto che aumenta di volume durante la crescita rimanga strozzato creando seri problemi alla pianta. Grazie a tutti.